Amici dell'ABA, studenti non studianti, su su un corda, è la quarta volta che cerco di fare questo video senza piangere, vediamo se questa volta ci riesco. Scusate prima di tutto che vi siete visti arrivare una mail dagli amici dell'ABA e magari vi è venuto un colpo. Niente, sono io, Lucy, sono la moglie di Massimo e dopo quasi cinque mesi ci tenevo a fare questo video per ringraziarvi perché siete stati davvero fantastici con tutte le lettere, tutti i messaggi che avete mandato, tutto il supporto mi ha veramente aiutato. E da un lato pratico avete anche contribuito tanto alla lotta contro il tumore perché voi della scuola avete raccolto quasi 800 euro che avete versato. Poi io ho raccolto altri 1400 euro da parenti e amici vari da tutto il mondo praticamente e quindi abbiamo fatto questa donazione all'OIEO, al Proton Center si chiama, che è un centro che sarà l'avanguardia nella terapia oncologica. Quindi grazie, grazie davvero che questo è un modo, c'è modo migliore per ricordare Massimo. Tranne che per voi studenti non studianti, se volete onorare veramente la memoria, il ricordo, come cacchio si dice, di Massimo, studiate. Perché lui viveva per farvi imparare cose nuove e sviluppare passioni per cose che magari altrimenti non avreste sviluppato. Ed ecco che quando non avete voglia, quando magari dite, ma chi se ne frega, quando mai userò la tecnologia o leggerò questo libro, cosa mi insegnerà mai? Non potete mai saperlo, veramente a Massimo farebbe moltissimo piacere sapere che appunto ha acceso il fuoco, la passione per lo studio. E niente, andate avanti così, grazie ancora di tutto.